buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi il titolo di questa puntata è pratica pratica pura pratica vera pratica schetta senza tanti fronzoli l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola ragazzi v maiuscola vera e professionale lo specifico che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo eccetera eccetera parla di pratica pura che cosa può fare per me l'ipnosi dicesse vera e professionale che cosa può fare per il mio caro che non vuole essere aiutato in nessun modo buttato nel letto davanti alla tv vicino a una bottiglia d'alcol eccetera 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 ecco cosa qual è la mia mission la mia missione darti nelle tue mani uno strumento potentissimo e senza nessun effetto collaterale perché non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista commerciale che si insegna a scuola nelle università di tutto il mondo che nasce dalla los angeles baby reels a due grandi dell'ipnosi vera e professionale la dottoressa rina brunini il professor dottor miguel angel garai che ti invito a vedere anche su internet oppure nella mia playlist sul mio canale youtube per essere ipnosi soluzione dicesse dottor caldo saraceno in cui affrontano o ci sono dei video che li riguarda bene e lo stesso sottoscritto che è partito da un libricino di pnl vent'anni fa circa e poi ha fatto il famoso viaggio del salmone ha scoperto tutto di più ha miscelato le tecniche in le tecniche che ci sono in giro l'ipnosi conformista commerciale le ha utilizzate ha visto anche molti vantaggi perché anche l'ipnosi conformista commerciale ragazzi serve nessuno dice il contrario ma non ha nulla a che vedere con l'ipnosi dicesse vera e professionale e dopo è andato avanti quando a mio padre capitò l'ictus nel 2008 dove la medicina tradizionale diceva non c'è cura non esiste cura c'è soltanto un pagliativo l'anticoagulante per non far peggiorare la sua situazione e questo lo devi traslare metaforicamente anche su altri casi impossibili per la medicina tradizionale per chi dice che non c'è cura bene allora lì scrissi in tutte le lingue del mondo un'email a centinaia per non dire migliaia di esperti di ipnosi vera e professionale compreso medici in italiano inglese francese tedesco giapponese americano e chi più ne ha più ne metta e cinese russo addirittura mi ricordo e tutti rispondevano all'unisono nel 2008 che non c'era nulla da fare nulla di nulla di nulla e che non c'era stato fino al 2008 nessun caso di ipnosi dictus fulminante molto grave trattato con l'ipnosi vera e professionale mentre stavo per gettare la spugna in lontananza vedo su uno dei miei computer in ufficio l'email della grandissima dottoressa rina prunini che ringrazierò e ringrazio per l'eternità la quale mi scrive si qui a los angeles beverly hills hollywood trattiamo abbiamo trattato centinaia e centinaia di casi di paralisi con l'ipnosi vera e professionale e lì la mia mente veramente seguaci di san tommaso ha iniziato ad accendere la famosa lampadina di archimede non ci credevo però essendo pragmatico san tommasiano detto ma mettiamola alla prova gli ho chiesto quanto costava mi rispose 100 dollari su skype online da los angeles immagina avevo letto tantissimi libri tante esperienze fattuali e nominali e nessuno nel 2008 osava dire che si potesse ipnotizzare su skype online a più di undici mila chilometri di distanza e lì fu la mia prima perplessità però anche intrigo ero intrigato a scoprire che cosa si nascondeva dietro tutto ciò e premetto che mio padre era una larva da più di un anno e mezzo quasi due stava buttato nel letto come un peso morto come una larva appunto con piaghe di decupito in tutto il corpo era caduto in una depressione cronica la parte destra era completamente paralizzata non vedeva non ascoltava non parlava non partecipava niente di niente di niente e tutti i familiari la famiglia compreso il sottoscritto erano caduti in una profonda depressione oltre che lui avevo provato a ipnotizzarlo guardandolo negli occhi c'ero riuscito poi non conoscendo le suggestioni cioè le parole ad hoc da dire in casi del genere avevo avuto un po di paura e mi ero fermato come scritto anche sulla mia fan page e quando la dottoressa disse così io mio fratello l'estrandolo prendemmo il mio padre sotto le ascelle come un peso morto lo portamo in salotto davanti ad un computer ciofeca una collezione lo ti dico ciofeca in mezza e iniziò la seduta la dottoressa rina prunini mentre girava il suo te il suo latte lo so cosa perché si sentiva il cucchiaino e che girava e parlava 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 parole comprensivi trasparenti ma intrise di un antico sapere molto potenti molto profonde dopo neanche mezz'oretta allo schioccare delle tita adesso rocco alze del cammini mio padre si alza rannicchiato curvo zoppicando ma camminando e va in cucina come impossessato da una forza da uno spirito da una forza la sua energia mentale e lì ho sgranato gli occhi detto madonna dove sono stato fino ad oggi e lì iniziato il mio percorso la dottoressa brunini a distanza anche per due anni da facendo d'assistente mio padre che migliorato dell'ottanta per cento mio padre è uscito dal letto è tornato a vivere scherzava rideva con mia madre per non dire altro anche sessualmente si era riattivato forza della mente forse della non lo so e poi mi ho anch'io mi sono fatto ipnotizzare in ufficio più volte alla settimana e utilizzato il metodo della dottoressa brina brunini del professore garai e ho conseguito il master a los angeles baby hills con grande soddisfazione e ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo dal 2008 ad oggi ed inoltre dal 2008 ad oggi io mi ipnotizzo h24 anche in questo momento sono ipnotizzato pur non sembrando a te al comune mortale ma io sono ipnotizzato ed essere ipnotizzato significa essere rilassati sprigionare il 10 per un'energia incredibile una lucidità mentale incredibile non ti arrabbi facilmente non perdi le staffe facilmente non ti stressi facilmente e quindi hai tutto sotto controllo però come se fosse naturale spontaneo senza sforzo senza forza di volontà ecco cosa vuol dire essere ipnotizzati e tutto il corpo entra in una modalità di equilibrio di 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 giovinezza di forza di voglia di vivere voglia di fare fidati funziona 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 per cui o te siccome io ho sospeso le sessioni online di ipnosi di cs vera e professionale perché molti impegni non ho tempo in questo periodo perché la mia mission è divulgare il mio metodo il metodo di cs o ti siete presso un professionista dell'ipnosi della tua zona che tu ti trovi a los angeles parigi milano e roma e inizi una sessione oppure se non hai voglia di girare il cappello oppure non hai voglia di mettere la famosa tuta oppure il tuo caro non vuole essere aiutato né online né offline da altri guru da altri professionisti bene tu puoi scaricarti un audio mp3 dcs dal titolo ad esempio no depressione no panico no passato negativo no timidezza no alcol no droga no impotenza no problemi sessuali no frigidità no eiaculazione precoce no dolori cronici no mal di testa cronico no mal di schiena cronico no artrite mai più artrite mai più fibromialgia eccetera 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 guarda sul sito internet www.ipnologiassociati.com e noterai quanti titoli e poi faccio anche realizzo audio mp3 personalizzati con la differenza che non sono quelli che trovi su internet in tutto il mondo a pochi spicci a 0 euro dollari perché qui si parla di ipnosi dcs vera e professionale ok che veramente ti da dei risultati e male che vada li noti da subito noti subito un cambiamento nella tua vita quindi non credere neanche ad una parola seguimi approfondisci e se t'hanno detto non è possibile non esiste cura questo è il momento buono per provare in più hai speso tanti soldi che te frega se rinuncia ad una colazione al giorno per 30 giorni e non lo fai per me lo fai per te ok quindi fammi tutte le domande del caso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottore claudio saracino e faccio il condividi con amici parenti perché può essere quel quid la molla che gli cambia la vita e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e credi in te stessa in te stesso ciao ciao